Un patrimonio unico, sia per la varietà delle opere custodite di inestimabile valore, sia per lo stretto legame che conserva con la scuola e i suoi laboratori e con il territorio. Un vero e proprio scrigno da custodire e far conoscere. Cammei, gioielli e opere in corallo, che testimoniano la cultura e la creatività del popolo torrese e rappresentano un'eccellenza della produzione artistica e artigianale, conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo. Riapre al pubblico, dopo una lunga pausa legata all'emergenza sanitaria, il Museo del Corallo, nella sede storica dell'Istituto Degni a Piazza Luigi Palomba. Un primo segnale di ripartenza, sottolinea ai microfoni di TV City, la nuova dirigente Benedetta Rostan. Abbiamo iniziato con l'apertura del nostro museo come primo segnale di ripartenza. Abbiamo avuto già diversi incontri, diverse prenotazioni. Abbiamo pensato di stabilire una mail che sia dedicata, in modo da poter organizzare tutte le visite nella massima sicurezza. L'accesso sarà fatto in sicurezza, seguendo tutte le disposizioni dei nuovi protocolli sanitari, ma sempre con gli studenti della scuola, guide. Gli studenti sono pronti, gli insegnanti anche, c'è grande partecipazione, io sono molto molto contenta. Quando sono arrivata in questa scuola, tutti mi hanno riservato un'accoglienza calorosa, racconta nel corso dell'intervista. E ho sentito sin da subito il grande senso di appartenenza del corpo docente. E' quello che in realtà poi ho colto immediatamente, arrivando in questa scuola, e cioè la partecipazione, l'affetto, l'accoglienza. Il senso di appartenenza fortissimo che hanno tutti i docenti, di tutti e quattro gli indirizzi. Ci siamo più volte confrontati, sia un collegio dei docenti che per singoli gruppi, meno numerosi, e abbiamo pensato di realizzare un percorso di offerta formativa che sia unico e che permetta ai quattro indirizzi di interfacciarsi in modo che il territorio possa comprendere realmente ciò che i ragazzi realizzano attraverso i percorsi di alternanza, ma anche attraverso i vari progetti e le iniziative, le unità didattiche che i docenti stanno già attivando nelle loro giornate didattiche. Mi sono emozionata perché ho fatto un giro uno di questi giorni quando ero un po' più libera e mi è venuta in mente una canzone di Bennato nella quale c'è questa frase, dice come una perla nascosta in fondo al mare. Dopo due anni di Covid noi adesso abbiamo ripreso questa perla che si era un pochino riparata. Ecco, come sta andando questa riapertura in presenza? Allora, l'apertura in presenza sta andando bene. I ragazzi all'inizio erano un po' spaisati e per questo abbiamo anche pensato di accompagnarli da un punto di vista proprio di accompagnamento emotivo. A breve ci sarà anche uno sportello d'ascolto e stiamo attivando delle iniziative per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo con iniziative didattiche, percorsi di unità didattiche che tutti i consigli di classe dovranno applicare, quindi tutti i docenti, ma chiederemo anche, inviteremo anche delle personalità esterne che possono dare delle indicazioni dal punto di vista legale ma anche dal punto di vista del comportamento e dell'accettazione dell'altro. Sulla riapertura in presenza la dirigente ha evidenziato le difficoltà iniziali vissute dagli studenti dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia. L'obiettivo da raggiungere, a concluso, è riuscire nuovamente a relazionarsi guardandosi negli occhi senza paura. Dopo due anni di chiusura e di utilizzo del digitale diventa più complicato soprattutto per i nostri ragazzi ricominciare a relazionarsi guardandosi negli occhi senza avere paura e noi dobbiamo accompagnarli superando questa paura della relazione vera. Grazie